centinaia di residenti che ovviamente si appoggiano al comitato. Prima dei saluti istituzionali e degli interventi istituzionali, se qualche rappresentante di fattoria della Piana vuole no, va bene. Il presidente della confesa esercenti di Reggio, Claudio Aloisio, per un breve saluto se vuole intervenire, mi sembra di no. Allora, sindaco, facciamo chiudere gli assessori, vuoi chiudere i tu, chiudere i tu, va bene. Anche perché le persone vogliono entrare nel mercatino, io a nome dell'amministrazione comunale vorrei soltanto ringraziare il comitato Corso Sud, una sinergia che si rinnova, siamo il terzo anno di mercatini, mercatini che ogni anno ci regalano qualcosa in più, come è stato detto, ma per noi, per l'amministrazione comunale è la conferma di quanto soltanto in sinergia, soltanto in collaborazione tra politiche e associazioni che operano sul territorio si può davvero realizzare qualcosa di buono perché tutti, ognuno per la nostra parte, lavoriamo per il bene della comunità e per il raggiungimento del bene comune per regalare un sorriso in più alle persone che gravitano intorno alla nostra città perché sono cittadini o perché magari per motivi di studio, di turismo, di lavoro, sono sul nostro territorio. Qualcosa in più vorrei aggiungere rispetto a quello che dicevi tu, il fatto che anche da fuori, anche dalla Sicilia, alcuni abbiano deciso di essere qui presenti significa due cose, che voi avete lavorato bene e che siete riusciti a rendere la nostra città attrattiva anche per chi ha voglia di investire. L'aspetto sociale vi fa onore, quindi questo ringrazio anche l'assessore Mucera, adesso stiamo partendo con il reddito di inserimento che potrà essere forse uno dei momenti che può essere pubblicizzato di più all'interno di queste casette solidali perché sul reddito di inserimento dobbiamo fare una grossissima campagna di comunicazione proprio perché forse sono le persone che più potrebbero accedervi che non hanno la possibilità di avere informazioni su questo. E poi naturalmente il settore attività produttive con l'assessore Angheloni, mi pare che la sinergia e la collaborazione sia stata molto stretta, continua e costante anche con i risultati che sono arrivati. Speriamo di regalare un sorriso in più con i mercatini che ci sono, in generale anche con il programma di attività che l'amministrazione comunale ha portato avanti e che sarà presentato nei prossimi giorni alla presenza anche del Corso Sud. Adesso facciamo entrare le persone, nuovamente grazie al Corso Sud da parte dell'amministrazione comunale e buon inizio di Natale a tutti, quest'anno iniziamo forse anche con qualche giorno di anticipo, quindi questa è una delle cose che ancora in più ci fa capire che si è realizzato un passaggio in avanti ancora più grande. Grazie, buonasera a tutti. Adesso dovrebbe esserci il classico taglio del nastro per dare il via ai mercatini, sindaco e sessori e ovviamente la disponibilità della casetta di Babbo Natale per il primo momento importante che qui faremo assieme. Con? Allora, la casetta di Babbo Natale quest'anno verrà curata, speriamo in maniera egregia, ma sicuramente sarà così, dai splendidi ragazzi della ludoteca Space Party. Perciò naturalmente chi ha bimbi, chi ha nipotini, chi ha, portate i bimbi alla villa comunale, si divertiranno, Babbo Natale e naturalmente la ludoteca è a disposizione di tutti.